La prima Prendi gli ingredienti Prendi tutto quello che ti serve Ho bisogno di qualche recipiente? Dove lo versi il cocco? Si, io lo prendevo dopo Prendi tutto così già ci hai rotto sul banco e non ti dobbiamo più scostare così si poteva tirare via Come il composto la riesce? Allora 4,5 di gin e 1,5 di maraschina e 1,5 di succo di limano Ok Possiamo andare? Ok Un attimo solo Versi gli ingredienti Posso fare come a Milano? Prima mi raffreddo la roba Si si si, tu devi versare rapidamente Emo ti dobbia Per tempo Per me puoi andare Per missare di Speraccio Prendi Michelangelo Eplafone E così La prima èestar Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.